La Sassone, che è ormai la regina della dolce vita nuova qui a Roma, perché è l'altro giorno, Gabriella ha organizzato nel giro di pochi minuti una serata straordinaria, a Vizi Capitale, come si chiama a Trasteo, cena con la Tommasi, compleanno con Sara, la numero uno, la regina discusa. E cosa facciamo? Io, Lando e Sara usciamo dal locale e con la direzione artistica della Sassone, abbiamo riecheggiato in pochi minuti che cosa? Quelli che sono i fasti della nocce vita. Era da anni che non succedeva questo. E questo è un merito oggettivo della Sassone. Gabriella che cosa mi ha chiesto? Giustamente voleva sapere qualche notizia in più su questo intervento di plastica di disintervento alterno. Questo si chiama, è la denominazione dell'intervento. Allora, prendiamo la Coca-Cola, la mettiamo qua proprio in mezzo tra la Sassone e la... l'amica Tommasi, io vado, mi consenta, scusate, io devo farlo, devo spiegarlo. Ti ha assunto la Coca-Cola, Gabriella. Questo è il mio bene, magari farse così perché sarei un grande, non mettiamolo davanti a sé. Tutti noi maschietti, quando mettiamo l'intervento, praticamente c'è l'anello, quindi praticamente diciamo che questo sia l'anello. Questo è l'anello che si tratta. Ma le mandorle più avanti. Io ho fatto, hanno fatto un'incisione a tutti, quindi hanno tolto questa parte. L'hanno messo dentro la prada? L'hanno messo niente. Se prima stringeva così, adesso è così. E quindi tendenzialmente l'hanno allargato un centimetro e mezzo, due. L'hanno allargato. E ovviamente, come spesso io ho dichiarato in questo periodo, potevo evitare di farmi un classico risentamento con l'augurio di guadagnare qualche... in tempi di crisi, scusate, in tempi di crisi, guadagnare due centimetri al fine e straordinario. Quanti? Due, uno e mezzo, due.